Ciao, buongiorno. Io sto facendo una passeggiata su Via di Ripetta perché devo fare un sopralluogo per la visita che presenterò venerdì 17 sulla magia e le superstizioni dell'antica Roma. Quindi sto ripercorrendo tutto il percorso, studio se c'è qualcosa di interessante che voglio inserire durante la visita. Quindi sono appena partita da Piazza del Popolo e mentre camminavo ho trovato questa meraviglia. Un signore che lavora all'interno di una bottega. Questa bottega si chiama Squatriti Restauri Artistici. Ecco qua, dal 1953 in Via di Ripetta 29. È bellissima perché la porta è rimasta intatta, i vetri sono rimasti intatti e il signore che lavora, lavora esattamente come probabilmente fa da una vita e come hanno fatto i suoi predecessori. E questo è proprio un valore aggiunto che Roma aveva e che purtroppo via via sta perdendo. Essendo nata e cresciuta ed occupandomi ancora di una bottega, so benissimo che significa, ma so anche il grande amore che si prova nel fare questo lavoro. Quindi sosteniamo il più possibile le botteghe. A presto. Grazie.